Scuola, sport, socialità e futuro dei ragazzi, si parlerà di questo e tanto altro sabato pomeriggio a Sassonia di Fano. In che cosa consiste l'evento Giovani Liberi? Allora, l'evento Giovani Liberi, come dice il titolo stesso, vuole mettere l'accento sulla libertà dei giovani, la libertà di esprimersi, la libertà di sognare, la libertà di pensare anche un futuro e le libertà anche costituzionali che sono state negate in questo ultimo periodo. Lo faremo però in maniera, tra virgolette, festosa, quindi come una manifestazione che invita alla riflessione, alla consapevolezza, con tante testimonianze e contornate però anche da attività di tipo creativo, manipolativo, musicale e festoso, insomma. Chi interverrà alla tensostruttura? Ma interverranno diverse persone raccontando la loro testimonianza, sempre in funzione però dei ragazzi, quindi l'insegnante come ha visto in questi due anni i ragazzi, lo psicologo, il medico, l'allenatore di sport libero, il genitore, quindi tutte persone che metteranno a fuoco un pochino la situazione giovanile dopo questo periodo di difficoltà in prospettiva futura. Ma non mancheranno momenti di intrattenimento? No, avremo momenti di intrattenimento musicale nel corso del pomeriggio, abbiamo alcuni musicisti che hanno dato già la disponibilità per suonare e quindi intervalleremo appunto queste testimonianze con anche momenti musicali, ripeto perché l'ottica è che sia un momento anche festoso, di riflessione ma ecco anche festoso, che valorizzi proprio questo discorso di socialità, di ritrovarsi insieme in contrapposizione al discorso del distanziamento sociale, tanto di moda in questi ultimi periodi.